Chi ha tradito non farà parte di questo progetto. La Lega volta pagina e chiude definitivamente con il passato. Anche la porta a chi magari vorrebbe rientrare. Il congresso della Liga che ha incoronato Tony Dara e segretario i padovani Dorio e Canella nel consiglio direttivo, secondo Andrea Ostellari ha dato un chiaro segnale di unità. Una risposta a chi, come l'ex assessore della giunta Bitonci Rodeghiero, ha voluto scrivere con una lettera aperta, uscita sui quotidiani proprio alla vigilia del congresso veronese, parlando di una deriva lepenista e di un allontanamento dai valori tradizionali leghisti. Io avrei preferito che, l'ho anche detto, che certi temi fossero stati affrontati magari nello stesso congresso. Non credo assolutamente, l'ha detto anche ieri Salvini, non c'è nessuna deriva lepenista, non c'è nessuna deriva della Lega, la Lega Nord è la Lega Nord e rimane tale. Se la Lega Nord prende voti al sud, significa evidentemente che le idee della Lega vanno bene anche a loro. Ora si attende la nomina del presidente del partito, ci vorranno una decina di giorni. In prima fila per la carica ci sarebbe Massimo Bitonci. Ostellari non si sbilancia, però rivendica un ruolo per Padova. Padova vuole giocare un ruolo importante, ieri abbiamo dimostrato anche che siamo riusciti a inserire due componenti nel direttivo nazionale. Padova ha tutte le caratteristiche adesso per giocare una partita che riteniamo utile per il partito.